Ciao amici del canale, ben ritrovati. Oggi un breve video, anzi un video annuncio, perché vi volevamo annunciare che si parte con i corsi di sopravvivenza. Per quelli che me l'avevano chiesto, insieme alla collaborazione della Scuola del Survival Rintintin di Livorno, siamo partiti con le prime date, quindi 9 e 10 ottobre. Per chi è interessato, io vi lascio tutto in descrizione, troverete la pagina Facebook riguardante l'evento, ci sarò anch'io come istruttore, insieme a altre tre persone specializzate, insieme alla squadra di Survival Rintintin, faremo questo primo corso base di sopravvivenza. Io comunque vi lascio tutto in descrizione, mi raccomando non mancate il 9 e 10 ottobre a Gabbro, in provincia di Livorno. E a seguito il trailer dell'evento. Ciao amici! Grazie a tutti! Grazie a tutti!